Facciamo subito i complimenti e gli auguri a Samir per questa convocazione nazionale brasiliana. Dici quanto sei felice. Tantissimo, devo ringraziare la prima Dio, poi la mia famiglia, poi i miei compagni di squadra perché senza di loro non potevo raggiungere questo sogno, quindi sono felice e spero di tornare di più in nazionale. Ecco, te lo aspettavi, un po' ci speravi, perché è stata veramente una notizia, immagino per te, bellissima, un po' anche per tutta la società, perché sei un po' cresciuto qui all'Udinese, sei arrivato giovanissimo e alla fine anche il raggiungimento è un obiettivo importante per te. Sì, certo, è una soddisfazione grandiose perché sono arrivato qua all'Udinese, sono qua da 4 anni, farò 4 anni. Bravo Samir, la felicità è grandissima, spero di... Bravo, bravo. Spero di dare più soddisfazione a tutta la società e ai miei compagni e devo ringraziare tutti loro.